Auguri! Auguri! Tanti auguri! Tanti auguri! Tanti auguri! Tanti auguri mammina e papà! Mammina e papà! Mammina e papà! E questi sono i nostri auguri della missione, dalle beatitudini, sulla missione che da nove anni cerchiamo di aiutare con l'aiuto di tutti e che voi in prima persona, di cui voi vi occupate ogni mese con le telefonate, con tutti i bambini, i buoni, le buste, tutte le cose. Quindi questi sono i bambini più piccoli della missione, insieme a loro vi faccio i miei auguri speciali per questo anniversario, come ogni febbraio, non sono con voi, ma sono con voi con il cuore. I miei auguri anche da parte di Salvatore e da tutti questi bambini bellissimi, bellissimi che voi amate anche se non conoscete personalmente. Tanti auguri mamma e papà da parte mia, da parte di Costia, da parte di Cinza e di Enzo che vi li faranno direttamente, da parte dei vostri figli che vi amano in tutto il cuore. Un bacio grande, auguri! Auguri! Anzi auguri! Auguri! Auguri, auguri, auguri! Auguri, auguri! Ciao, grazie, ciao, ciao! Kiss, 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 kiss! Very good, very good, thank you, thank you! Go, 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 go,